Sta flettendo un po' tutto oggi sul mercato delle criptovalute, da Bitcoin alle altcoin. Che sta succedendo in prossimità? Mancano due giorni ormai al fork con Bitcoin Gold. Perché stanno scendendo? Perché gli investitori stanno aspettando? Andiamo a vedere un po' i grafici ragazzi così ve lo spiego. Bene ragazzi, andiamo a guardare un po' che cosa stanno combinando le criptovalute. E eccoci qua. Ecco qui, guardiamo un po', Bitcoin sta perdendo l'1,53%, quindi una flessione piuttosto bassa. Si è portato però al di sotto dei 6.000 dollari. Ragazzi che cosa vi ho detto nei giorni scorsi quando avevamo visto quell'enorme impulso rialzista con quella candela che corrispondeva a circa 3.000, un acquisto di circa 3.100 Bitcoin fatto in due minuti in sette transazioni diverse. Che quella era la speculazione? Che era facile vedere un pump and dump? Infatti c'è stata poi una piccola flessione, il prezzo di Bitcoin è sceso al di sotto dei 6.000 dollari. Sta 5.8 adesso ma qua potrebbe ancora crescere. Considerate che io adesso sto facendo questa analisi quando sono negli Stati Uniti a San Francisco. Sono qui le 7 di mattina, quindi da voi è pomeriggio avanzato. Quindi siamo già nella sessione americana, vi dicevo questo per dirvi questo, che siamo nella sessione americana. Quindi Bitcoin si fa un meno 1,53%, Ethereum perde quasi il 5%, il 4,5% e di nuovo si porta sotto i 300 dollari, stiamo a 283. Ripple fa un meno 5,22%, Bitcoin Cash un meno 6,30%, quasi meno 6% per Litecoin che comunque rimane sopra i 53 dollari. Per vedere sta scendendo un po' tutto quanto. C'è solo Stratis che fa un bel più, 17%, ma di Stratis ne parleremo tra poco, tra pochi giorni in realtà. E Tether, vabbè, rimane come al solito stabile, anche di Tether dobbiamo parlare. Ragazzi invece volevo dirvi di questo Game Credits che avrete notato, sta facendo numeri da capogiro, si è adesso portata ai 2,25 dollari. Perché? Perché Game Credits è una criptovaluta legata al non mondo del gaming, ha fatto un accordo piuttosto forte con Unity, che è una libreria, è un tool per, definiamolo tool, ma i programmatori che mi seguono sanno benissimo che non è un tool, comunque è semplicemente una libreria che vi permette di creare videogiochi. Se volete andare a vedere bene che cosa è andare sul sito di Unity, lo leggete. Però ha stretto questo accordo e che cosa è successo nell'ultimo periodo? Vedete che si era praticamente, continuava a rimbalzare su questo livello qua, intorno al dollaro e 20, e poi ci ha rimbalzato, anche oggi si è portata a 2,40. Speriamo di rivederla arrivare ai massimi. Io comunque questa è una criptovaluta che ho sotto il radar, quindi la controllo. Vediamo se adesso questo, quello che mi interessa vedere è soprattutto una rottura di questo livello qua, di livello intorno ai 2,50 che vedete. Mentre questa ha funzionato come supporto, questa ha funzionato come resistenza, quindi voglio vedere una bella rottura di questo muro. Però a parte Game Credits che sta salendo per questa notizia, andiamo un po' a vedere il grafico di Bitcoin. Voglio farvi vedere Bitcoin e Ethereum, è come se, ragazzi, il mercato è un po' fermo ormai in attesa di questo grande fork di cui si è parlato tanto, Bitcoin Gold, di cui ci sono dei sostenitori ma ci sono anche degli scettici, perché diciamoci la verità, non si sa praticamente nulla sul codice sorgente. Secondo me gli exchange e i wallet sono un po' spaventati da questo, perché non ci dimentichiamo che se veramente non c'è questa replay action con Bitcoin, e adesso è uscito un altro articolo di Tezor, l'hardware wallet, che dice che non c'è protection, non c'è protezione, quindi si potrebbero perdere i propri Bitcoin nel momento in cui si ottengono i Bitcoin cash e si ritirano i Bitcoin cash. Sapete, sono tutti quanti un po' spaventati, il mercato è fermo, non è un crollo, perché guardate qua, siamo sull'orario. Vi ricordate che cosa vi avevo fatto vedere nel grafico vecchio? Vi avevo fatto vedere che questo impulso, se questo impulso rialzista era uguale al secondo, il prezzo sarebbe arrivato in quest'area qua, che corrispondeva anche al livello 127.2 di Fibonacci, cioè tra il 127.2 e il 161.8, guardate che cosa ha fatto il prezzo, dove è arrivato, ha praticamente toccato esattamente la prima soglia di attenzione che vi avevo detto e poi è risceso un pochino e adesso si è attestato sotto, al di sotto dei 6.000 dollari, stiamo a 5.750 come prezzo medio qua su TradingView. Quindi, sono un po' in attesa secondo me di vedere che cosa succederà tra due giorni con Bitcoin Gold e motivo per cui scendono anche le alcoin. Andiamo a vedere Ethereum, che è quella che mi interessa di più, magari mettiamo un video a 4 ore. Ecco qui, Ethereum che cosa sta facendo? Dopo questi massimi aveva raggiunto finalmente di nuovo i suoi massimi storici, quasi, aveva toccato i 3.50 come dollari, non era arrivato di certo ai 400, però si pensava potesse arrivarci, a un certo punto si è fermata e è cominciata a scendere, vedete ha fatto prima questo impulso ribassista qua, ribassista scusate, e adesso sembrerebbe che stia dopo questo ritracciamento, c'è stato qua un ritracciamento piuttosto veloce, ma il prezzo sembra adesso continuare a scendere. E qui ci sono che soglie di attenzione possiamo metterci a vedere? Qui ce n'è una, che è proprio dove sta adesso il prezzo, vedete come nel passato ha funzionato da supporto, e la seconda è qui sotto, quindi potrebbe addirittura, potremmo rivedere di nuovo Ethereum arrivare a intorno ai 250 dollari. Staremo a vedere ragazzi, secondo me saranno giorni un po' piatti, o meglio, non con grosse, né con grosse impennate, né con grandi flessioni, quindi ci manterremo intorno a questi valori, con la solita volatilità, che contraddistingue ovviamente tutte quante le criptovalute, noi monitoreremo tutto quanto in prossimità, ormai mancano due giorni in prossimità di questo fork, vediamo se riesco a fare anche un video in diretta, anche se io il 25 sono di nuovo sull'aereo, vabbè vediamo se riesco a farlo. Ragazzi fatemi sapere se questo video di recap vi è piaciuto, buon trading a tutti, ci vediamo prestissimo, ciao!